Si sente benissimo Mamma mia, pieno di questo microfono Del lavoro che fa ogni volta Che voglio fare un video Un pazzo, saluto a tutti ragazzi, non pazzo E benvenuti nell'undicesimo Episodio della carriera Siamo in pieno calcio mercato invernale Mercato di riparazione E a noi è una super riparazione Perché siamo messi veramente male Abbiamo veramente pochissimi giocatori Guardate qua ragazzi, una rosa troppo corta E quindi vi ho chiesto nello scorso video Quali giocatori comprare Soprattutto una S, un terzino Un difensore, un bottiere Perché ci servono come il pane E mi hai dato tantissimi consigli E ho letto tutti i vostri commenti Quindi vi ringrazio Pronti a supportare questo super video con Hashtag Rivoluzione Mi avete ricordato questa cosa qui Troppo percentuale sul budget e stipendi Ed è inutile la pella così alta Quindi ragazzi la spostiamo E guardate qua Aumentano i soldi per i trasferimenti Direi per il momento di tenerli tipo così 75 25 per cento Cos'è adesso abbiamo ben 42 milioni per il mercato E andando ragazzi Lasciate like per caricare al massimo questo video Per compare tantissimi giocatori Seguitevi su Instagram Pazzolist per tantissime novità Giocatori che ci servono Non ha salvato tutti qui E sono questi qua ragazzi Diago Silva El Sharaoui Juan Guadrado E Tata Lusano E' stato veramente difficilissimo Con quei soldi Prendere i giocatori Sia forti Che allo stesso tempo Che costavano poco Mi avete consigliato Un sacco di giovani Per ragazzi Secondo me Dei giovani Il prezzo costava troppo E noi questi quattro giocatori Ci servono Per vincere la Champions Per fare una grande stagione Non per il futuro Perché poi a fine stagione Ce li venderemo E comeremo altri nuovi giovani Proprio al momento Ci servono questi Perché le disponibilità Economiche Sono queste E non me la sento Di vendere A meno che ci fanno Qualche offerta incredibile Questi giocatori Non me la proprio sento Di venderli Quindi facciamo così E inoltre ci venderemo Qualcuno Dalla primavera Nei commenti Mi avete detto anche Di accettare Lo stato di crescita Di Gosens Mi avete detto Premi triangolo Per Gosens E fatto E' diventato Tezzino Mamma mia ragazzi Grazie per i consigli Senza di voi Non saprei come fare Perché questa carriera La stanno facendo Proprio insieme Mi fa molto piacere E quindi ragazzi Gosens E' diventato Tezzino Infatti guardate là Adesso è più 5 Più ma la massima Più 2 Sono contento Vediamo i messaggi Di comets Grandissimo Comets A prezzo Il tombegno GG Nuovo rollo Per Gosens Subito la notizia Sono contento Per Gosens E' andando Una notizia Pazzesca Perché fino adesso Nessun nostro giocatore Ha vinto questo premio Anzufati Miglio giocatori Di dicembre Non lo avrei mai Detto ragazzi Questa giovane promessa Io adesso direi Di prenderci Questi giocatori Che ho deciso di prendere Io inizierei da quadrato Vediamo un po' Quando ce lo venderebbero 18 milioni 200 milioni Va bene Contattiamo per acquistarlo Dai ragazzi Primo giocatore di oggi Forza Ciao 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 Allora Offerta per cartellino 16 milioni Ci potrebbe stare Valore attuale 18 milioni 16 milioni C'è da 22 anni Più Tumminiello Che comunque Non mi serve Magari ci cascano Vediamo un po' Avanziamo l'offetta Se non è più che giusto Lui vale 18 milioni Vediamo 17 milioni 200 Non voglio nessun giocatore Allora a sto punto Io scenderei A 17 milioni E possiamo chiuderla 10 mila Del livegalo Dai Vediamo se ce l'accettano Così Vediamo Perfetto ragazzi Quadrato preso A 17 milioni Primo questo di oggi Primo tessino Al top Adesso facciamoci Il bel contrattino Giovanni dai 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 Eccolo qua Quanto sei bello Io ci metterei Importante Dai Magnifico A top Lo stipendio Un po' Attino Devo dire Contratto 32 anni 4 anni Dai 2 anni Va bene dai Va bene 2 anni Vanno bene Mamma mia Che stipendio alto Però Regà Lo stipendio farei 70 mila E il bonus ingaggio Va bene Sinceramente Vediamo se c'è Vediamo un po' Va bene Facciamo 74 mila A settimana 74 mila Settimana E come bonus Di ingaggio 300 mila Ok Perfetto Quindi Che effetto Non hanno ancora accettato Vabbò Vabbè Accettiamo E quadrato è con noi Va benissimo Quadrato Un nuovo giocatore Della Atalanta Un altro scambetto Alla Juventus Ragazzi Dopo qui Siamo Adonardo Ecco qui Anche quadrato Un terzino Che ci serviva Tantissimo Eccolo qui Joan Se riusciamo a prendere Tutti questi Gioratori Anche la panchina Di renda fortissima Tero Siva Cerchiamo di riuscirla a prendere A 11 milioni Eccola Genderis Offerta cartellino Un po' anziano Io ci sarei Se vale 11 milioni Io ci do 10 milioni Più Cerchiamo di venderci Tumminiello Vediamo un po' Se accettano 16 milioni Ehm Ma è tantissimo No Assolutamente no Proviamo con 13 milioni e 500 No 16 milioni E' veramente tanto Per uno che ha 36 anni E Scherziamo Rega E la boa Ho capito Rega Accettiamo Va bene così Ok E anche in difensore Forte è stato preso Ovviamente Prima dobbiamo farci Il cartellino Facciamoci questo cartellino Vai Settiamo Eccoci qua Che bel cappuccino caldo Madonna Conto si prendono Sti giocatori Però Mamma mia 85 mila E poi la gente Sempre quello di quadrato Vabbò Tutti la stessa gente C'hanno Io direi Importante Vediamo un po' Cruciare addivittura Mamma mia E che Dovevo accettare per forza Sennò Comisciamo a prenderlo E si accettiamo Nega Però Ce lo dico adesso Non lo posso far giocare Tutte le partite Andando ci chiedono Due anni Anche lui Io a sto punto 36 anni Accetto Accetto E lo stipendio Se lo fa abbassare A meno questo Va bene Va benissimo Mi sembra più che ragionevole Anche perché 25 presenze Non penso che ci arriva Però visto che stiamo sempre Con la manina corta 54 mila Guadagniamo 2000 euro A settimana Vediamo un po' Ok Abbiamo guadagnato 2000 euro A settimana Che facciamo Li buttiamo No che non li buttiamo Mamma mia Altri acquisto Anche di ero silva Fa parte Della Adalanta Vis Mamma mia Ragazzi Ma che video Sto facendo quest'oggi Che video Eccolo qua Tiago silva Intanto lo mettevo in banchina Ci sono rimasti 10 milioni Quindi penso che stiamo facendo Veramente un meccato Con i fiocchi Il problema è che ne vale 17 milioni Aia Quindi non ce la facciamo Proviamo ad alzare Il budget Ci siamo arrivati Vediamo un po' Che ci esce Un po' di ansia Ce la devo dire Se ci riusciamo a prendere Anche Sharawi Peccato con i fiocchi Veramente Con i soldi che avevamo Eccoci qua Mamma mia 14 milioni Più Se ci cascano Tuminiello Vediamo un po' Vi prego Vi prego Perfetto Per 16 milioni Aiaiai Dai cerchiamo di fare almeno 15 milioni Avanziamo Ti prego Ti prego Mamma mia ragazzi Pazzo Mi si è diventato Uno aspetto Di calcio Peccato E ci avevo anche Buttato Tuminiello Al top Facciamoci questo bel Contrattino Ma che squadra Onde sta diventando Eccoci qua Nel nostro studio Eccoli qua Che stile Allora direi Di metterlo Come Importante Mamma mia Al top Un anno di contratto Ma siete pazzi Almeno due anni Va benissimo Mamma mia Adesso si prende Vuole Che 73 mila Settimane Chi è questo Matteo No Assolutamente No Facciamo Nei guadagni 25 mila Ti posso fare 53 mila Settimana E bonus Di ingaggio Di meno Assolutamente E ma scherziamo C'è 69 E 73 mila Ma si pazzo Matteo 70 mila Però senza Senza bonus Di ingaggio E bonus Di 500 mila O questo stipendio E allora Accetta queste condizioni Ma guarda tu questo Mi sta a fare Piare Che si sono pazzi 70 mila Ultima offerta Mi ne prendo un altro E mica esisti solo tu E Ottio santo Ragazzi Quante offerta Allora troviamo Il bonus di ingaggio Facciamo così Il bonus di ingaggio Vediamo Non posso spendi Tutto questo Per lui E Oh Alleluia Ok Va bene Ci siamo Finalmente ragazzi Che patto Mamma mia Quando trova degli agenti Così Che vogliono Tutti questi soldi Ma il calcio Passione Non sono solo soldi E intanto Anche Sharaway Fa parte del club Guardate che panchinona Sono super contento Perché Atebu Può fare anche Il tessino C'è può fare tutto Atebu Anche L'esterno Di attacco Centro campista Quindi ragazzi La panchina È perfetta Adesso Mamma mia Cerchiamo di prenderci Anche il portiere C'è rimasto Un milione Mamma mia Non c'è rimasto niente Ci sono finiti i soldi Ragazzi Quindi Io direi Niente da tarusano Ma ci prendiamo Un portiere Della primavera L'unica Questo portiere Qui Che può diventare Veramente Una leggenda Questo possiamo Anche toglierlo Promuoviamolo Ah Troppo giovane Oh Mannaggia Allora andava bene L'altro portiere Che appena Riuscisse il contratto Andiamoci lui Ah Ecco qui Questi giovani Della primavera Due portieri Perché ci faccio C'è raga È veramente Uno squadrone Io direi Dipendere anche Un altro attaccante O stendo Dalla primavera Non ci costa niente Questo ad Al top Al top Al top Al top C'è raga Ci sono questi Tre giocatori Incredibili Proprio al pelo Ci sono rimasti 824.000 euro Mamma mia Ecco qui Nostra charawi Tiago silva E quadrato Ragazzi Andiamo avanti Vediamo un po' Eccoci qua Stiamo al torino Io direi di giocarla Anche per provare I nuovi giocatori Anche perché Torino È una squadra forte Ma qua ci dicono Che c'è raga È addirittura Uno dei colpi Dell'anno Mamma mia Vabbè ormai Si parla solo Di 9 acquisti Giustamente E anche quadrato Ovviamente Ma come lo sapevo Fazzi Fa solo colpi Dell'anno Il prossimo video Simuleremo la partita Con il lecce Con il benevento E penso Lo giocheremo Con il sassuolo E poi si vedrà Poi si vedrà Andando facciamoci Questa partita Vis Per vedere un po' Tutto Sicuramente Vado a giocare Questi ragazzetti Qui Abbiamo fatto Un grande Mercato Quindi ditemi voi Però se non vedi Al pennello Proprio Sono veramente contento Di questi acquisti Piove Vedo E vabbè Difficoltà Leggenda come sempre Dai quella partita Ok ci siamo ragazzi Partita di campionato Pazzesca Io la odio La pioggia però Mannaggia Mamma mia Atalanta Torino Torino a dodicesima In classifica Non bisogna Sottovalutarla Perché comunque La sua squadra È molto forte E poi nel secondo tempo Faremo entrare I nuovi acquisti Intanto cerchiamo Di chiudere La prima La partita Ho visto Un altro scatto Che schifo Bella Tonali Adesso l'ho visto L'ho visto La mente passata Vai No Che paradona Che paradona Bellissima azione Ragazzi Mamma mia Come gioca bene Questa atalanta Vai Segnala Ragazzi Devo vincere Per forza Anche questa Perché Se no La juve Non la raggiungeremo Mai Prima rete Del match Per l'Inter Davi Un gioco Del mese Si vede Ah Bello Gomez Leonardo Da qui Da qui Madonna Ci muovono proprio Camaringa Ho visto Ok Bella Non me l'aspettavo Sinceramente Non me l'aspettavo Ci provo qua Ci provo Vai Mannaggia Non molliamo Questo assalto Madonna Questa Questa Sembra Una di quelle Partite Che finiscono Zero Zero Mamma mia Sto proprio Infredorito Zero Zero Entrambe Sembrano Pensare Più a difendersi Che ad attaccare Ma se non si Rischia qualcosa Beh Ticine Che la situazione Possa No Eccolo qua Il gol La gufata Il telegonista La gufata Il telegonista Mamma mia Mamma mia Un tiro Un gol Mamma mia Lo sapevo Lo sapevo Sono tutte e due Pensando a difendersi Ecco qua Il gol Il gol puntuale Proprio puntualissimo Monucci a Liverpool Ma I giovedì della Juventus Stanno andando tutti Bella ripartenza Guarda adesso L'ho visto Vai scatta Bellissimo Al volo No No Che ci siamo mangiati Di quanto è uscita No Questo è lo risulta Mado Facciamo sti cambi Ragazzi Esci a bravi Per anzufati Diago Silva Per upamecano E quadrato Per Gosens Proviamola così Tutti e tre Cambi insieme Vediamo Se stravolgono La partita Eccoli qua Tutti e tre nuovi Ai che sono belli Con la maglia Della talanda Subito giù A un quadrato Mamma mia Vamo La squadra ha preso fiducia Mamma mia Ronaldo Ronaldo Fallo Mamma mia Da guatiato A un assist Pazzesco di Gomez Che sono contentissimo Che non l'ho venduto Ragazzi Perché Gomez Fa sempre la differenza Con i passaggi Mamma mia Ma che assist Di Gomez Ragazzi Diciamolo Che assist E poi Ronaldo La chiude così Quattordicesimo gol Per lui Ma che fenomeno Mamma mia Che ansia Bello Bellissimo Guarda scatta Messi Scatta Bellissimo Lino del Messi Lino del Messi Si accende L'ha visto Ah No No Di qua con la fine No 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 Cavoli Non ci voleva questo Dai che l'ho visto Chi Chi cacchio L'hai passata Vai Ma che schifo Ok Il papo Dai a meno un bareggio A meno un bareggio Vi prego Messi 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 Ti prego Accendati Lionel Fettonali Guardi Non è scatta Bellissimo Ma che ci sta in mezzo Rega Ti testa per qualcuno Che non so chi Ma che cosa Ha fatto Gomez Oh mio dio Che gol Ma che gol Ma che gol Che gol ha fatto Mamma mia Ma che bel gol Bellissimo Si Mamma mia Che pareggio E ce lo evitiamo Questo gol Due due di recupero Ma è finita Non alla fine però Non voglio perdere la fine Oh Oh no alla fine Oh Finita Vabbè Un bareggio E' una partita difficile Lo sapevamo Due a due ci sta L'importante è che abbiamo reagito L'Inter purtroppo ha vinto E ha vinto anche la Juendus Ancora possiamo farci la classifica Non preoccupiamoci Raga Io direi di chiudere quel video Ditemi se questa squadra Può vincere lo scudetto Può vincere la Champions Può vincere la Coppa Italia Per me può vincere tutto Adesso questa squadra Ci siamo rifatti E adesso si va Nello sprint finale Di questa carriera Lasciate like per supportarmi Ditemi quello che volete Non vedo l'ora di farvi I prossimi episodi E da Pazzo Questo è tutto E noi ci vediamo al prossimo Pazzo video Bella Ciao 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 Ciao